Berry Plant vi presenta questa grande opportunità. Si è presentata un'opportunità per assicurarvi questo ottimo immobile. Questa casa infitante è composta da una stupenda cucina dove sarà un piacere preparare i pasti, ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati, una casa che non lascia niente scoperto. Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi. Contattate la gente.